Che iniziativa presentate? Oggi presentiamo l'iniziativa della nascita di un'associazione culturale che si chiama Patrie, scritto in latino, che ha l'ambizione di riunire quelli che sono gli spiriti patriottici in Italia e in Europa. Il nostro slogan provocatoriamente è Patrioti di tutta Europa Unitevi. Su questo intendiamo rilanciare insieme a quello che sta facendo Matteo Salvini e la battaglia Basta Euro, intendiamo rilanciare una forte opposizione alla moneta di Francoforte, una forte opposizione al mostro di Bruxelles in nome della sovranità monetaria e della tutela dell'identità patriottiche in tutta Europa. Perché è importante il loro contributo? Per superare steccati ideologici. La battaglia contro la moneta unica e contro il pensiero unico, aggiungo io, è troppo importante per farla da destra, da sinistra, da leghisti, da sopra, da sotto. Quindi più la battaglia per la libertà economica, anche la libertà di pensiero, viene estesa, diffusa e compresa, meglio è.